Sono Raffaella, benvenuto su Scaffali Sopparchi. Scaffalature metalliche, sopparchi, ma anche sistemi automatici e compattabili per un magazzino ed un archivio efficienti. Prodotti leader scelti secondo qualità e rispetto delle normative, per una logistica di successo. Chiamaci per un consiglio o per il progetto del tuo magazzino o archivio. Il nostro staff tecnico è pronto a soddisfare le tue esigenze. Consegniamo ed installiamo in tutta Italia. Tranquillo, con noi sei in buone mani.